Ciao a tutti ragazzi, come è Birozzo qui parla e oggi sono qui con questo nuovissimo video di FIFA 14, c'è l'ultimo mio team, questo è un Pink Slips dove andremo a sorteggiare, dove eccolo qua, FIFA 14 Italia per PC, qua ho fatto un post che ho scritto Pink Slips Gervinio, sorteggerò ora, vabbè, ci sono stati ben 31 commenti, cioè ben 33 commenti, andiamo a estrarre su random.org, questo sito dove da numeri a caso da 1 a 100, come potete vedere ora allargo un po', non riesco ecco, generiamo il numero, il 14, vedete 14, andiamo a vedere se c'è qualcuno che ha scritto 14, se no riandremo a risorteggiare, 14, eccolo qua, Marco Esposito ha vinto, quindi andiamo a contattarlo ora, ci ritroviamo tra poco ragazzi. Dato che anche il terzo non gli vanno i server a lui, lui c'era ma gli andavano i server, non so perché a me vanno benissimo, quindi risorteggiamo il 4, è davvero una cosa bruttissima risorteggiare 4 volte, ora è il 36 come avete visto. Sta salendo il crimine ragazzi, rigeneriamo il numero 6, vediamo, nemmeno il 6, rigeneriamo 15, numero 12, quello di prima, 21, 17, 7, 13, 14 e 15. Lorenzo Romano ha vinto lui, sperando che lui ci siano e gli vadano i server. Ci sentiamo tra poco ragazzi, speriamo su FIFA. Allora ragazzi, dopo la quarta estrazione ho trovato l'avversario e finalmente ora potete vedere la mia squadra, con Benazia secondi in forma che mi fa veramente cagare, ve lo dico perché fa veramente schifo a mio parere, non fa bene niente, comunque guardate le statistiche che ha 75 velocità, 90 difese, 87 testa, dovrebbe essere un mostro, invece non lo è. Poi ho preso Borca Valero che è un ottimo giocatore, un ottimo giocatore, non c'è niente da aggiungere e poi c'è il più bello, il più bello no, il più forte secondo me di questa squadra che è lui, quadrado, 94 velocità aumentando diventa circa 97, ma non dovete guardare le statistiche, dovete guardare in partita che strage che farà. Ma andiamo a invitare questo mio avversario che giocherà per Gervinio in forma, 30.000 crediti sul piatto. Eccolo qua l'avversario, vediamo la sua squadra, FC Bomber, Sita, una Berkley's Premier League, anzi no, una Mista. No, Sandro, Sandro, e c'è il gol di Sandro, non ci posso credere al nonno minuto. Sto perdendo 30.000 crediti, sto perdendo, sono veramente uno scemo. Oppo, quadrado, la bomba, parata, dai Balotelli, no. Mamma quanto lag, Balotelli si ritrova lì la palla in qualche modo. Balotelli, Balotelli, Super Mario Balotelli, nel lag. Meno male, stavo perdendo 30.000 crediti, al 32esimo Balotelli la mette dentro. Non so nel lag come ha fatto a ritrovarsi là la palla dopo il lancio lungo di Buffon, ma se ne è ritrovata lì. E con la superpotenza ha fatto il gol, 1-1. Vidal, Vidal cerca quadrado, velocissimo, quadrado, mamma mia, guardate la velocità, quadrado, 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 parata. Rigore? No, può andare quadrado, il cross in mezzo per Vidal, Vidal, parato, Vidal, 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 ancora la parata, non vuole andare dentro questa palla. Fine primo tempo, 1-1, dai Balotelli, Balotelli per Gervigno. Cervigno, parato, e Sarawi, no! Non ci credo, no, non ci posso credere, che gol che mi son mangiato. No, traversa, meno male, ha tirato da 50 metri questo colpo di testa che stava per infilarsi dietro la porta. E Sarawi esce dal posto a Cervigno in forma, che speriamo che dia quel qualcosina in più per andare a vincere questa partita. Balotelli, vede Cervigno, può andare lui. Cervigno, 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 traversa, dai, Cervigno ancora lì, no, non ci credo, la palla non va dentro. Vidal, Pirlo, Pirlo è davanti per Cervigno, può andare, è l'uomo che può decidere tutto, Cervigno, no, dai, sì, sì, Super Mario, Super Mario, la mette dentro. Super Mario, Balotelli, all'ottantesimo, blocchiamo il risultato così, Cervigno, il tiro respinto dal portiere, Balotelli ruba la palla di Pesore e trova il viola. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, posso dire solo questo? Finisce così la partita, 2-1 per me, doppietta di Super Mario, Balotelli, mi tengo 30.000 crediti e Cervigno in forma. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, vi ricordo anche di passare dalle due pagine Facebook che lascerò qua sotto in descrizione. La mia è quella dove si può partecipare a questi miei Pink Slips. Da Biroz è tutto, alla prossima, ciao!